Ho già costato lo smalto Perché sono qui oggi Per fare questo video con voi E' uno spacchettamento Sono felice, mi è arrivato questo pacco In data 18-8-2016 E ho fatto l'ordinazione Il 13 Sto per spacchettare Sono molto felice L'aspettavo molto Wow, lo vedo già Eccolo Voi direte che cos'è Questo qua nella confezione Che sembra un portaocchiali In realtà è una mascara C'è dentro Il mascara in gel E le fibre Quindi ci sono dentro Due prodottini Qua c'è scritto qualcosa Qua possiamo leggere gli ingredienti Adesso vi faccio una foto Degli ingredienti Questo è un prodotto Della Lush Factory Ha un pao di Oddio 16 mesi Penso 26 mesi E' scritto troppo in piccolo Il prezzo scontato E' 17,97 Se vi affrettate Potete trovarlo ancora scontato Com'è in questo periodo Il prezzo completo E' di 39,99€ Io sono iscritta Ad Amazon E ho Amazon Prime E quindi almeno Le spese di spedizione Non le ho pagate Anche voi Se avete Amazon Prime Pagherete 17,97€ Altrimenti dovete aggiungere 3,99€ Per le spese di spedizione Da dare ad Amazon Io sono ancora dentro Al periodo gratuito Di Amazon Prime Di primo mese Da Le spese di spedizione Gratuite Adesso lo sta aprendo Non vedo l'ora di vedere Come ha fatto all'interno Come potete vedere E' sigillato molto bene Anche dentro al pacco Non saltellava tutto Era ben fisso Quindi non sbattacciava Da nessuna parte Anche come potete vedere Dentro non si sente niente Qui possiamo vedere Il logo di Last Factory Adesso lo sta aprendo Lo sta aprendo In diretta con voi Non so come è fatto dentro Lo sta per aprire Possiamo trovare Questo foglietto di carta qua Dopo lo andremo a leggere E all'interno Troviamo questi prodotti qua Ecco come potete vedere Dentro ci sono i due prodottini E sono C'è un laccio Ecco qua all'interno Come si presentano i prodotti Comincio a estrarne tutte e due Questo lo mettiamo da parte All'interno ci sono Questi due scatolini Quello più lungo E il gel E quello più corto Sono le fibre Eh sì Infatti era come immaginavo Ho visto molti video Di questo brand E devo dire che ne ho viste Di cotte di crude Adesso finalmente Eh come immaginavo Ho scoperto Che quelle che hanno fatto La recensione prima di me O almeno la maggior parte Hanno sbagliato Ad applicare il prodotto Perché qua dice Applicare uno strato Di normale mascara E lasciarlo asciugare Poi applicare Il gel trasparente Che sarebbe il C'è anche scritto Longer tube Il tubo lungo Sulle vostre ciglia Mentre si sta Asciugando Questo prodotto Bisogna applicare Il contenuto Del tubo più corto Che sarebbero Le fibre Poi bisogna applicare Di nuovo Questo prodotto Per fissare Le fibre di tè Verde Sulle ciglia Perché altrimenti Ovvio Che se fai la prova Così Le fibre Si staccheranno Invece questo Le andrà a fissare E si ripete Lo step Per aggiungere Volume E lunghezza Ora Applicheremo Il mascara Così vi faccio vedere Come si fa Prima di tutto Step numero uno Non dimentichiamoci Importante Il mascara Che portiamo Di solito Lo applichiamo Io sto usando Il mascara Di Bella Oggi Drama Effect Perché a me Mi piace Un effetto Strong Sulle ciglia Drama E meglio Lunghe Infatti Sono molto felice Per questo prodotto Qua Perché Quello Che promette Appunto È di ottenere Delle ciglia Lunghe Con le fibre Di tè E voluminose Lasciamo asciugare Il mascara Che ho appena applicato Intanto Che si asciuga Vi Dico un'altra cosa Qui c'è scritto Che bisogna applicare Il prodotto Su una Ciglia Per volta Perché Il prodotto Il gel Trasparente Potrebbe Asciugarsi Durante L'applicazione Delle fibre E ovviamente Se il gel Trasparente Asciuga Le fibre Non si appiccicano Più Poi il prodotto Potrebbe anche Creare Irritazione Se si va Troppo A contatto Con Gli occhi Cioè le fibre Entrano Dentro gli occhi Ma questo è normale Tutto Se va Negli occhi Da fastidio Nel frattempo Il prodotto Si è asciugato Quindi Andrò ad applicare Il mio gel Trasparente Che sarebbe Un gel nero In realtà Quando siamo soddisfatte Della quantità Di gel Applicato Andiamo Allo step Numero 2 Molto velocemente Prima che si asciuga Prendiamo le fibre Che si presentano In questo modo E le andiamo Ad applicare Penso che ormai Il gel si sia asciugato Quindi posso anche Piantarla qua Step Molto importante Che ho visto Che alcune youtuber Che hanno recensito Questo prodotto E si sono dimenticate Di fare È il fissaggio Con il gel Delle fibre Appena messe Mi piace molto L'incurvatura Che sto ottenendo Ora possiamo ripetere Di nuovo Per incrementare L'effetto Vedete Piano piano Si stanno allungando Wow Si è staccata Una fibra di tè E come prima Andremo a fissare Le nostre fibre di tè Con il gel E come la veramente veramente bello come potete vedere è questo il risultato che ho ottenuto adesso lasciamo asciugare io sono sul bordo del letto e fa un po' cado comunque questo è il risultato che ho ottenuto farò un'ultima prova che è la prova che fanno le youtuber che ho visto fare da una youtuber che non ha riapplicato il gel per mostrarvi che l'uso corretto appunto è fissare le fibre con il gel perché ovviamente se non fissi le fibre con del gel vanno via c'è scritto che se volete potete pettinare le ciglia ma io non lo farò ora penso che il prodotto si sia asciugato quindi andrò a fare la prova per vedere se rimangono oppure sono ben fissate proviamo eh visto? sono rimaste tutte attaccate non se ne sta staccando neanche una neanche a farla apposta questo prodotto ha superato la prova dito neanche una fibra ha lasciato giù e ho fatto la prova già diverse volte infatti il problema con quell'altra youtuber che l'ha recensito questo prodotto comunque un prodotto simile appunto è che si è dimenticata di utilizzare questo per chiudere il prodotto adesso le istruzioni per l'uso che vi ho fatto sono finite farò una foto di come sono ora poi metterò anche dall'altra parte secondo me vedere come sta funzionando in questo momento vi vale specialmente adesso che è scontato adesso che lo potete trovare a 17,97 euro al posto di 39,99 euro comunque quando e se decidete di comprarlo qua c'è scritto tutto c'è l'uso step by step qua delle istruzioni così delle informazioni in più che potete leggere io vi ho letto quasi tutto ci sono gli ingredienti gli ingredienti ve li faccio vedere ve li metto qua questo è il 300x3D fibre luscious secondo me ah e questo è anche resistente all'acqua c'è scritto anche che è facile da togliere bene la revie è finuita ciao alla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto